Salve a tutti ragazzi, io sono il divino Johnny dello staff di Noi Malati di Frutto. Oggi sono qui a presentarvi il quarto episodio del Road to Suarez. Ma prima di cominciare vi ricordo che se vi servono crediti passate da VIP Coins, link in descrizione, e con il codice MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. In questo episodio vi mostrerò un nuovo metodo di compravendita, dove sfrutteremo i giocatori che hanno già lo stile intesa ancora applicato. Noi dovremo impostare giocatori oro, posizione difensore, stile intesa ancora appunto, e prezzo massimo 800. Dovremmo offrire un massimo di 800 crediti ai giocatori oro rari ed un massimo di 450 crediti ai giocatori oro non rari. In media ogni 10 offerte ai giocatori se ne prenderanno 4 o 5. Vi consiglio comunque di controllare sempre il prezzo, anche se di solito per vendere velocemente basta metterlo a un compravendita di 1000 crediti, guadagnando comunque sempre una cifra di 150 crediti al giocatore. Grazie! 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 Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!